Lo sai papà, tutti sono convinti che Mr. Satan sia l'eroe che ha sconfitto Cell salvando la terra. Quel furbacchione abita qui, per questo hanno ribattezzato la città dandone il suo nome. Adesso si chiama Satan City, non è pazzesco? Sono contento di studiare! Yeehoo! Dai, fuori i soldi, non abbiamo tempo da perdere, è chiaro! State buoni, obbedite! Niente scherzi, capito? Cerca di muoverti, bellezza! Ecco fatto, e con questa abbiamo finito. Perfetto, possiamo andare! Torneremo a trovarvi non appena avremo speso tutto il denaro, presto! Oh no, sono decisamente in ritardo, devo darmi una mossa! Via libera! Che succede? Beccatemi questo, piedi piave! È mai possibile che debba sempre trovarmi in mezzo ai guai, siamo alle solite. A quanto pare dovrò trasformarmi di nuovo, speriamo che non mi veda nessuno. Avanzi, arrendetemi, ormai non avete scampo! No! Ma che succede? E tu chi sei? Levati di mezzo! Ah! Ah! Ma chi è quel matto? Presto metti in modo! Ragazzi, che botto tremendo! Davvero grandioso! Da non credere! Ehi, ma si può sapere chi è stato? Ehi, tu! Chi è combinato questo macello? Scommetto che non sono stati poliziotti, vero? Beh, ecco, io veramente non ne ho idea!